Oggi vediamo come eliminare il rumore di fondo da una registrazione. Può essere utile per i vostri video tutorial, darete così un tocco di professionalità al vostro lavoro. Il procedimento è molto semplice e useremo software gratuito di nome Audacity. Sotto il video troverete il link per lo scaricamento. Apriamo il programma, questa è l'interfaccia grafica, e importiamo il file audio che ci interessa. Ne abbiamo già registrato uno. Ascoltiamolo. Oggi vediamo come eliminare il rumore di fondo da una vostra registrazione. Può essere utile per i vostri video tutorial, oppure per dare... Come avete sentito, c'è un fruscio di fondo. A volte dei click o dei suoni che non fanno parte del parlato. Andiamo quindi a selezionare una parte dello spettro dove noi non parliamo. Andiamo su effetti. Primozione rumore. Clicchiamo su Elabora profilo del rumore. Il programma automaticamente imposterà i parametri per eliminare, nel mio caso, il fruscio di fondo. Selezioniamo ora con la scorciatoia CTRL A tutto l'ospetto audio. Andiamo di nuovo su effetti, quindi su rimozione rumore, e diamo l'ok. In automatico la traccia verrà pulita. Il programma restituirà... Oggi vediamo come eliminare il rumore di fondo da una vostra registrazione. Può essere utile per i vostri video tutorial, oppure per dare... Sentito? Molto meglio di prima, no? Abbiamo finito. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!